La famiglia è sotto attacco, ma perché è sotto attacco e chi la attacca? Due giorni di discussione per l'iniziativa del Comitato Progetto Uomo, prima a Biceglie e poi a Barletta. È sotto attacco perché sta vincendo la cultura relativista. L'aveva già detto e scritto Benedetto XVI nella Caritas Inveritate. E questo ha come conseguenza il fatto che non si vedono i bisogni delle persone, quelli materiali, appunto perché, come è scritto nella Caritas Inveritate, non si vede come si sta distruggendo la vita, la natura, i principi morali. Se non esiste la morale, la politica, diciamo, o i politici non possono vedere neanche i bisogni delle persone, le sofferenze delle persone. Parlano di crisi economica, ma non si occupano della famiglia. Quindi vogliono distruggere la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, la vogliono sostituire con improbabili famiglie tra persone dello stesso sesso, a cui affidare anche l'educazione dei bambini. Io sono convinto che di fronte a quello che sta avvenendo, la legge sull'omofobia, il cristianesimo deve, per così dire, tornare a scoprire le sue origini. Il cristianesimo è nato con la storia dei martiri, persone che hanno immollato la loro vita per la loro fede. Di fronte al fatto che con la legge sull'omofobia un sacerdote, se legge la lettera di San Paolo ai Romani che parla di omosessualità, potrà trovare un giudice che lo mette in galera, i cristiani devono testimoniare. Se devono andare in carcere, andranno in carcere, diventeranno dei martiri, non c'è alternativa. Non bastano più le manifestazioni, le opinioni, gli interventi, occorre la testimonianza viva. I cittadini rispondono benissimo, perché c'è un grande bisogno di sentire, parlare di principi. Quando le società sono in difficoltà, quando vengono distrutte da questo tipo di cultura, le persone hanno bisogno di trovare comunità nella parola dei principi. Il nostro paese, come l'interiore d'Europa, è nato da una civiltà giudaico-cristiana che stanno distruggendo. Quindi noi dobbiamo ritrovare la nostra identità di cittadini e coltivare la nostra civiltà.